Ciao, come stai? Bene, te! Andiamo a mangiare la pizza? Ok, ma dove? In che pizzeria? Da pizzicotto Dai, andiamo col bus, io non ho voglia di camminare, sai Sono... cioè, non ho voglia di camminare, ma vabbè Oh, ma ci sei o ci fai? Stiamo andando col bus, stati calma, mica stiamo andando a piedi Comunque, io mi chiamo Caterina, piacere di conoscerti Ma guarda che io ti conosco, eh Ah, tu sei Noreen, quella popolare della scuola Ciao, comunque non mi ricordavo di te Io prendo la pizza kebab Io prendo la pizza morgerita Vabbè, io non mi sono riempita la pancia, ma vabbè, quando vado a casa mangio mega hamburger Ciao No, vabbè Comunque, buona giornata a te, buonanotte e buonasera Ma ti ripiii? Devo scureggiare Vabbè, ma io che me ne vado, ciao Ok, ciao